Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo il modulo C, la terza parte del corso. Non stiamo procedendo in maniera sequenziale, ma un po' come la scorsa lezione sulla programmazione parallela, anche noi andiamo in parallelo quest'anno. Diversamente degli anni scorsi questo ci fornirà un vantaggio nel momento in cui quello che impariamo nella teoria poi andiamo a mettere e riversare nella pratica. Questo sarà possibile tramite le applicazioni di utilità di Notepad in cui andremo a riversare un algoritmo per la correzione automatica, tramite Pacman in cui andremo a riversare un algoritmo per l'esplorazione dei grafi, eccetera. Quindi quest'anno il mio approccio è non lasciare che il modulo C del corso, che è un modulo di tecniche e algoritmi, che rimanga confinato nella teoria che uno impara a pardella senza capire la reale utilità. Quindi quest'anno il mio obiettivo è di farvi capire l'utilità di ogni singolo strumento che andiamo a spiegare oggi. E questo è anche l'obiettivo di oggi, al di là del sommario che ci è tutto inutile, oggi l'argomento è l'analisi della complessità, vi voglio subito dire perché affrontiamo questo argomento. Quindi complessità significa predire, in un certo senso, caratterizzare algoritmi in funzione di quella che è la loro complessità, quindi un algoritmo è più o meno complesso di un altro. Come facciamo a rispondere a questa domanda? E perché è importante rispondere a questa domanda? Il perché, non so se lo sentite, ma c'è la ventola del computer che sta girando. Ed essendo un Mac non è una cosa che accade proprio tutti e tutti i giorni. Succede che c'è un processo in esecuzione, e ce l'ho da circa 40 minuti da quando ho acceso il computer, è un programma che implementa algoritmi di ordinamento. Quindi non è un programma complesso, lo potete, sta su Drive e poi comunque lo discuteremo più in là. Però questo programma contiene una serie di algoritmi di ordinamento, tra cui quelli che voi avete visto, quindi insertion sort, selection sort, bubble sort. Oltre a quelli implementa anche altri algoritmi di ordinamento, tra cui alcuni che vediamo in questo corso. Ora, cosa ho fatto io in questo programma? Questo programma chiede di inserire la lunghezza di un array, quindi 100.000 elementi dell'array. L'obiettivo degli algoritmi di ordinamento è di ordinare l'array in senso crescente. È un problema che avete affrontato in un precedente corso. Ora, ci sono degli algoritmi che non conoscete e che è obiettivo di conoscere in questo corso, che impiegano nel caso di array di 100.000 elementi, dell'ordine, tempo dell'ordine dei millisecondi, 30 millisecondi, 17 millisecondi, 30 millisecondi, addirittura il sort dello standard template library del C++ impiega, per capire come ho fatto, impiega 0 secondi. Quando è 0 significa che non è misurabile, perché la misurabilità del tempo non è una cosa banale comunque sul computer. Comunque, quello che si intravede è che ci sono questi quattro che impiegano un tempo davvero ridotto. Poi ci sono quelli che voi conoscete, quelli che voi avete fatto a fondamenti, immagino, che impiegano molto, ma molto di più. Cioè, guardate l'ordine di grandezza. Qua è dell'ordine dei millisecondi, qua è dell'ordine dei secondi. Quindi siamo passati ad un ordine di grandezza 1000, per 1000 è un moltiplicatore. Ok? Poi lasciamo stare le differenze, proprio questo è il doppio, questo è il quadruplo, però 1000 è un moltiplicatore molto più forte di queste differenze. Quindi cosa vediamo da questo esempio? Vediamo che ci sono due classi di complessità, consentitemi questo termine. Ci sono questi quattro che impiegano millisecondi e questi tre che impiegano secondi. Quindi mi sembrano esserci due gruppi ben distinti. Ora, io ho provato del motivo per cui questo programma in realtà è terminato, quindi non è questo il motivo per cui il mio calcolatore in questo momento è a palla. Cos'è che è a palla? Io ho quattro core, uno dei quattro core è a palla, me ne accorgo perché ho il 25% fisso di utilizzo della CPU. Quindi ci sta uno dei quattro core e in questo momento è molto utilizzato. Perché? Perché c'è un altro, ho fatto girare un'altra copia di questo programma in cui ho detto di ordinare un arri di un milione di elementi. Ora, un milione è soltanto 10 volte 100.000. Sono passato da 100.000 a un milione. E mi pare, potete concordare con me, che ordinare un arri di un milione di elementi è una cosa che nella vita può capitare. Capitare nel calcolo scientifico. Che ne so, sto facendo una elaborazione sugli utenti di Facebook. Quanti utenti c'ha Facebook? circa 3 miliardi, 4 miliardi? Non ricordo esattamente. Molti sono fake, però vabbè. Comunque, dell'ordine dei miliardi. Quindi ordinare un arri di un milione di elementi non dovrebbe essere una cosa scandalosamente, insomma, non è una cosa che possiamo ignorare. È una cosa che può capitare nella vita di un programma. Ok? E ci sono sempre questi quattro che impiegano, stavolta un po' di più, beh siamo passati a un milione di elementi, però impiegano, stavolta, decimi di secondo. Mentre gli altri, adesso questo ha finito proprio mentre vi stavo per parlare, per inserire la lezione, c'è l'inserzo sotto che ha impiegato 746 secondi, che significa 60 per 10, circa 12 minuti, ma ci sono gli altri che ancora devono finire. Quindi di nuovo la differenza, decimi di secondo, decine di minuti. Mi sembra anche stavolta una differenza molto importante. Probabilmente, per finire selection sort e bubble sort, a occhio penso, se faccio una proporzione con l'esempio precedente, potrebbe volerci l'intera ora. L'intera ora per ordinare un array di un milione di elementi su una CPU che comunque, rispetto a quelle di qualche anno fa, era molto potente. Però immaginate che questi calcoli sono calcoli che si fanno da decenni. Ordinare array di un milione di elementi è un problema, diciamo, abbastanza banale che si risolve in poco tempo, da decenni. Quindi come mai sta avvenendo questo? Questa è la domanda pratica che vi pongo, che ci poniamo oggi, a cui cerchiamo di dare una risposta. Fatemi terminare, altrimenti mi si fonde tutto. Quindi, perfetto, ho terminato. Quindi, l'obiettivo di oggi è quello di dare una caratterizzazione teorica, però vi ho fatto vedere la controparte pratica, che ci consenta di caratterizzare la complessità degli algoritmi. A che scopo? Ad esempio, aiutarsi a scegliere tra diverse soluzioni dello stesso problema. Pensate alla schermata che vi ho fatto vedere prima. Se voi doveste ordinare un array, che già sapete essere un array molto lungo, cioè sapete che nel vostro programma si dovranno ordinare array lunghi, sceglierete voi Insertion Selection Bubble Sort, oppure sceglierete uno degli altri sort. Il mio consiglio in C++ è di scegliere i sort dell'STL, però per capire il perché dobbiamo aspettare un po' di tempo. Quindi ci serve uno strumento, ci servirebbe uno strumento che ci consente in grado, ci mette in grado di predire la classe di complessità di un algoritmo. Che significa la classe di complessità? Significa che se noi mettiamo, in un certo senso, il tempo di esecuzione, in funzione del numero di dati del problema, pensate, l'asse orizzontale pensate che sia il numero di elementi dell'array, nel caso di ordinamento, e l'asse verticale immaginate che siano i secondi. Ora, non guardate i numeri in questo particolare caso, è importante capire il concetto. Quindi ci serve caratterizzare la complessità di una soluzione algoritmica in funzione dei dati in ingresso. Perché chiaramente, ragazzi, se io devo ordinare un array di 10 elementi, anzi, lo vediamo subito subito nel programma, se io avessi invece di ordinare un array di 100.000 o un milione, anche di 1000 elementi, la risposta sarebbe stata non misurabile in alcuno dei casi in esame. Quindi, quello che sto dicendo è che il problema della complessità non è un problema che ci si deve porre quando già sappiamo in anticipo che i dati in ingresso sono piccoli. In quel caso, è abbastanza inutile porsi il problema della complessità. Invece ce lo poniamo quando sappiamo che i dati possono essere numerosi e nella vita reale ci mancherebbe altro oggigiorno che i dati non siano numerosi. E quindi, cos'è che vogliamo capire? Vogliamo capire come caratterizzare l'andamento della complessità, cioè quanto tempo impiegherà, quanta risorsa, quanta CPU utilizzerà il nostro algoritmo in funzione dei dati di ingresso, ora vi do una piccola anticipazione, poi però dobbiamo capire perché ci metteremo sicuramente tutta la lezione di oggi e parte della lezione di domani. Come è possibile la differenza che abbiamo visto prima? Bub sort impiega un'ora e gli altri Merge sort, Quick sort, sort dell'STL impiegava due decimi di secondo per ordinare un array di un milione di elementi. Io vi do l'anticipazione che la complessità del bubble sort è quadratica nei dati di ingresso. Che significa quadratica? Che il numero di operazioni che la CPU svolge, operazioni elementari, quindi confronti, assegnazioni, le operazioni che siamo abituati a mettere nel nostro codice, nel caso del bubble sort, se il numero di elementi è un milione, la complessità è dell'ordine del quadrato di un milione. Dell'ordine lo capiremo che significa, che potrebbe essere dieci volte il quadrato di un milione, oppure 2,5 volte il quadrato di un milione, cioè c'è una costante moltiplicativa che noi ignoriamo, però è dell'ordine del quadrato, quindi un milione per un milione fa un milione di milioni, in italiano è un bilione, anche se in inglese è billion, significa miliardo. Ragazzi è un numero esorbitante, sono mille miliardi, mille miliardi di operazioni. Voi ditiamo abbiamo le CPU potentissime, poi è possibile che ci ha messo tutto quel tempo. Beh innanzitutto non sappiamo se è esattamente mille miliardi, potrebbe essere anche 100 volte mille miliardi, ci può essere una costante moltiplicativa che lo rende più lento e comunque ragazzi mille miliardi di operazioni comunque non è banale anche per le CPU del giorno d'oggi, anche perché sono operazioni per esempio in memoria, bisogna fare delle assegnazioni nei confronti, non è un puro caccolo, non sono mille miliardi di somme, c'è anche il fatto di dover prelevare i dati dalla RAM, metterli nel registro, riportarli nella RAM, ci sono ovviamente altre operazioni coinvolte. Questo nel caso del bub sort, in realtà anche nel caso dell'insertion sort e del selection sort. Invece nel caso degli altri tre, degli altri quattro, la loro complessità è log lineare. Che significa log lineare? Che invece di essere dell'ordine di n quadro, dove n è il numero di dati, è dell'ordine di n per logaritmo di n. Che uno dice, vabbè, più o meno è come n quadro, no per niente, perché n per logaritmo di n, si vede dal plot della funzione, sta molto sotto rispetto al quadrato che invece diverge. Nel caso specifico, se ci mettiamo un milione, n log n sarebbe un milione per il logaritmo, per esempio in base a 10 di un milione, che è 6. Quindi 6 milioni? Beh, 6 milioni rispetto a mille miliardi è molto, molto più piccolo di almeno tre ordini di grandezza. Quindi ora capite perché quel bub sort ci mette così tanto di più rispetto agli altri. Quello che non abbiamo capito è come si fa, ed è l'obiettivo della lezione di oggi, come facciamo noi a predire, a dire questo algoritmo appartiene a questa classe qui, o appartire a questa, o peggio a questa, o peggio a questa. E tra l'altro, chi sono queste altre classi di complessità superiore alla quadratica? Per esempio c'è la classe di complessità esponenziale, che quindi ci fa capire che è ancora, l'esponenziale sarebbe per esempio 2 alla n, dove n, la numerosità di dati d'ingresso, e all'esponente della funzione che descrive la complessità. Ecco quindi complessità esponenziale. Beh, se un algoritmo avesse complessità esponenziale, altro che aspettare un'ora, dovreste aspettare, immaginate un po', secoli o addirittura quantità di tempo, che pur utilizzando tutti i computer del mondo, non basterebbe l'età dell'universo per risolvere il problema. Non ho detto una scemenza, ci arriveremo a breve. E questo mi consente di fare un passo indietro. È una breve digressione, ripeto, queste sono lezioni pensate per essere un po' più soft, quindi non ho io la fretta adesso di arrivare alla formulazione matematica, ma mi piace anche intrattenervi con degli aneddoti, perché questa è una lezione di un'ora, non posso spararvi formule su formule in un'ora di prima mattina. Facciamo un passo indietro. Ho saltato questa slide appositamente, perché questa slide presenta una figura un po' strana, questa figura concentrica in cui al centro c'è NL, P, NP, PSPACE, EXPTIME, EXPACE. Cosa sono queste? Queste sono classi di complessità. Ora, queste sono classi di complessità che non coinvolgono solo la risorsa tempo, ma anche la risorsa spazio, ecco perché c'è da fare qui SPACE e anche qui SPACE. Cioè, quando si parla di complessità di un algoritmo, non ci interessa solamente quanto tempo impiegherà, ma anche quanto spazio utilizzerà, perché magari un algoritmo è veloce, ma ha bisogno di EXA ed EXABYTE di spazio, e quindi io non ce li ho, e allora che posso fare? Anche se è veloce, io non ho lo spazio per farlo girare quell'algoritmo. Quindi anche lo spazio, la memoria, in sostanza, è una risorsa. Quindi queste sono le due risorse che determinano le classi di complessità. Perché allora vi sto mostrando questa figura? Cos'ha questa figura di così importante nella nostra pratica di tutti i giorni? Bene ragazzi, io vi dico che questa cosa qui, questa classe di complessità P e questa classe di complessità NP, sono così importanti, o meglio, la loro relazione è così importante, che non solo c'è un premio di un milione di dollari a chi dimostra, perché non si sa se questa classe è uguale a questa, cioè sappiamo che è contenuta IN, ma non sappiamo se anche vale col segno di uguale. E quindi c'è questo problema, un problema informatico, per cui è stato messo a disposizione un premio di un milione di dollari, ma in realtà chi risolve questo problema, se lo risolve, diventerebbe molto più ricco. Cosa sono queste classi? P è la classe dei problemi, per esempio, che hanno una soluzione algoritmica di complessità temporale, cioè ci mette tempo, polinomiale nei dati d'ingresso. Polinomiale, cioè N, N quadro, N quadro più N, polinomiale, per esempio il Babsort è polinomiale, N quadro è un polinomio in funzione di N. NP, invece, è la classe dei problemi la cui soluzione, una volta che viene già data, si può verificare in tempo polinomiale. C'è una differenza sostanziale tra trovare una soluzione e verificare che una data soluzione è una soluzione vera. Ora, se queste due cose coincidessero in tempo polinomiale P ed NP, bene ragazzi, si avrebbe un risultato enorme. Intanto vi faccio un altro riferimento ai Simpson. C'è una puntata in cui Homer diventa 3D ed entra nel mondo reale, in cui nella transizione dal mondo dei cartoni al mondo reale passa in un intermondo in cui si vedono delle cose matematiche nello sfondo. Sono delle cose note, dei problemi noti della matematica o delle formule note della matematica. E sullo sfondo, non ce l'ho aggiunto con Photoshop, andate a rivedervi la puntata, appare P uguale a NP. Questo cosa fa capire? Beh, le puntate dei Simpson sono vecchie. Questa è una puntata vecchia, stiamo parlando di anni 90. E quindi è dagli anni, in realtà, anche prima degli anni 90, che questo problema, diciamo, che fa venire in mal di testa ai matematici e agli informatici. Perché fa venire in mal di testa? Perché se si dimostrasse che queste due classi di complessità sono in realtà coincidenti, crollerebbe tutta la sicurezza informatica. Se vi interessa un approfondimento, vi consiglio Wikipedia inglese, non italiano. Wikipedia inglese è davvero una fonte di informazione, mentre italiano, insomma, ci scrive un po' chiunque. Se andate a vedere le conseguenze, no, dove sta? Le conseguenze di questo problema, le conseguenze di una soluzione. Quindi, se qualcuno dimostrasse che P è uguale ad NP, le conseguenze principali hanno a che fare con la criptografia. Perché hanno a che fare con la criptografia? Perché, forse l'avete sentita questa cosa, le nostre transazioni bancarie o anche i bitcoin, tutte le transazioni che si basano sulla criptografia, quindi banalmente, ragazzi, quando voi vedete un HTTPS, significa che in quel momento la vostra transizione, tra virgolette, cioè voi che state navigando su quel sito o su quell'applicazione web, è sicura, la sicura, perché dietro ci sono dei metodi criptografici che la rendono sicura. Chiaramente lo sono tutte le transazioni bancarie, oppure quando dovete pagare, state su Amazon, dovete pagare con la carta di credito. Tra l'altro, quindi, se non vedete la S là sopra, se non vedete un certificato in alto a destra, c'è qualcosa che non va, non devo insegnarvi io, ovviamente, di non comprare, di non usare carta di credito in siti malevoli. Questa sicurezza, però, cioè il fatto che, questa transazione è sicura, cioè non c'è nessuno che, se anche qualcuno sta intercettando la vostra transazione, non riesce a decifrarla, perché è cifrata, appunto, criptografia, cioè, ci sono metodi matematici, criptografici, che rendono sicure queste transazioni. Tra l'altro c'è addirittura la blockchain, se avete mai sentito questo termine, che cacchio è la blockchain. Ragazzi, la blockchain non è altro che un insieme di transazioni che si basano sulla criptografia, in particolare andando a cifrare, a criptografare rispetto alla transazione precedente, non voglio entrare nei dettagli, però tutto si basa sulla criptografia, ok? Anche i bitcoin e tutte le altre criptocurrencies, quindi le monete virtuali, si basano su questo paradigma. Tutto questo si basa su cosa? Su algoritmi complessi. Quindi la criptografia, ovvero la sicurezza informatica mondiale, si basa su degli algoritmi, algoritmi talmente complessi, che anche mettendo tutti i computer del pianeta in collaborazione, magari non i computer di oggi, anche mettendo i computer di fra cento anni, quindi ipotizziamo che fra cento anni i computer sono, ne so, un milione di volte più potenti di quelli di oggi, che poi difficilmente, vabbè, potrebbe accadere. Un miliardo di volte non è un problema, datemi di più e vi darò di più. Li mettiamo tutti insieme, quelli di fra cento anni, un miliardo di volte più potenti, nemmeno così riuscirebbero a risolvere il problema, ovvero rompere il sistema criptografico, perché romperlo significherebbe trovare la soluzione ad un problema che fa parte di questa classe polinomiale, quindi sono problemi che necessitano di tanti, tanti calcoli. Pensate addirittura a quelli esponenziali, ci sono anche i sistemi criptografici basati su composità esponenziale. Però cosa succede? Succede che se si dimostrasse che P è uguale a NP, cioè se si dimostrasse che io posso risolvere, non sto adesso a farvela lunga, è una cosa che non si spiega ovviamente in dieci minuti, significherebbe che questi problemi che noi pensavamo essere molto difficili, cioè come vi ho detto io, nemmeno mettendo tutti i computer del pianeta insieme, in realtà c'è un modo per risolverli prima. È una specie di scorciatoia, potete pensarlo come un hacking, con l'hack, un hacking matematico. Cioè c'è un modo per rompere questi sistemi, per risolvere questi problemi, in un tempo che è molto più breve rispetto a quello che si pensava. Beh, se questo fosse, sarebbe una tragedia, perché significherebbe che, se questo sistema poi di rompere, viene trapelata nel pubblico, basta che un hacker matematico sta con le antenne tese, lo capisce, e diventa ricco, improvvisamente, boom, fa tutte le transazioni bancarie che gli servono, per mettere sul suo conto corrente i soldini che gli servono. Ovviamente è più intelligente, non è che li mette tutti sul suo conto corrente, avrà una strategia ovviamente più furba per non farsi beccare. E il tracollo, ragazzi, sarebbe il crollo del mondo finanziario, di tutto quello che si basa sulla sicurezza informatica. Ovviamente non solo quello, voi potreste mettervi tutti e tre interlode nei vostri libretti virtuali, eccetera, eccetera. Per non parlare poi della possibilità di entrare nei sistemi di gestione, degli ospedali, delle centrali nucleari, ragazzi, sarebbe la guerra, sarebbe l'anarchia mondiale. Cioè, in questo momento il mondo, la pace nel mondo, non è totale, però comunque meglio di niente, si basa sulla sicurezza informatica, perché tutti i sistemi più, insomma, pericolosi, hanno un sistema di gestione informatico protetto da un sistema di sicurezza. Se questi sistemi di sicurezza avvenissero o meno, sarebbe ovviamente una tragedia, e questo è abbastanza comprensibile. Quindi, oltre alle nostre motivazioni, cioè, noi dobbiamo predire il comportamento di algoritmi, e quindi, per esempio, il nostro problema è, ma se devo scegliere un algoritmo di ordinamento, quale scelgo? Ok, questo è un nostro problema da ingegneri junior informatici. Invece, questo problema che vi ho appena detto, è un problema, diciamo, più da matematici. Cioè, ci sono persone che stanno dedicando la loro vita a dimostrare questa guaglianza. In questo momento ci sono una quarantina di dimostrazioni a favore, e un'altra quarantina di dimostrazioni a sfavore. Però queste dimostrazioni non sono dimostrazioni matematicamente pure. Cioè, ogni dimostrazione ha un punto debole. Perché, ragazzi, è difficile questa cosa. Difficilissima. Quindi, chi lo sa, magari non è detto, cioè, non è detto che valga P o LNP, quindi, probabilmente, nessuno mai riuscirà a dimostrarlo. Però intanto, ci si prova, ci si prova, ci si prova. Perché, se ci si riesce, beh, significa che bisogna, che ne so, per esempio, passare ad altre classi di complessità. Cioè, bisogna inventarsi dei sistemi criptografici che, per esempio, stanno in una classe superiore, mentre adesso ci sono alcuni che stanno in una classe inferiore. Come l'AES, che sta per Advanced Encryption System, l'AES. Tra l'altro, l'AES è il sistema criptografico su cui si basano le transazioni bancarie quando ci colleghiamo al sito della banca. Quindi, quelli sono cose reali, quelle di cui vi ho parlato. Bene, però torniamo adesso ai nostri problemi. Quindi, afflusciamoci un po', non stiamo cercando di hackerare i sistemi informatici mondiali, non vogliamo fare la guerra a nessuno, siamo ingegneri informatici junior, dobbiamo solamente capire ma quest'algoritmo va bene per questo problema, oppure si può fare di meglio, oppure ho due algoritmi, quale è meglio, oppure, questo algoritmo che io ho proposto funziona nella teoria, ma nella pratica il computer ce la fa, oppure deve aspettare i secoli prima di avere una risposta. In quel caso, la mia soluzione la butto via, non c'è alcuna migliore, oppure se non c'è una migliore, significa che ho trovato un problema non risolvibile in tempi umani, e allora lo posso vendere ai criptografici. Guarda, io ho trovato un problema che non si riesce nemmeno a risolvere sfruttando tutta la computazione che hai. Bene. Dobbiamo però adesso studiare, introdurre lo strumento che ci consente di caratterizzare appunto la complessità degli algoritmi. Abbiamo già detto che sono due le risorse che ci interessano. Il tempo richiesto per eseguire tutte le operazioni dell'algoritmo e lo spazio necessario per manipolare e memorizzare i dati. Ora, in questo corso, e non solo in questo corso, la risorsa di maggiore interesse è il tempo. Perché il tempo? Perché, ragazzi, statisticamente è difficile che un algoritmo abbia bisogno di una quantità di spazio che non abbiamo a disposizione. Soprattutto oggigiorno ce l'abbiamo a disposizione questo spazio. Ormai ci stanno pure le chiavette USB piccole da un tera, da 500 giga. Ci sono, costano tanto, ma ci sono. Insomma, andando più in grande, figuratevi Google, voi pensate che su YouTube, pensate a quanti nuovi video vengono caricati ogni giorno anche in due e in quattro kappa. E Google non ha alcun problema di storage. Questo perché, ragazzi, lo spazio oggi non è un problema. Oggi, non lo è. Rimane però il tempo sicuramente un problema. Perché, come vi ho detto, nonostante tutti i progressi, nonostante anche mettendo tutti i sistemi di calcolo insieme, collaborando nel mondo, comunque non si riuscirebbe nemmeno, per esempio, ad ordinare un array con bubble sort di, che ne so, sparo una cifra di mille miliardi di elementi, sto sparando, magari mi sto sbagliando, ce la si fa. Però per dire, cioè, se un algoritmo non è efficiente in termini di complessità computazionale, hai voglia a mettere tutte le risorse del mondo, comunque quell'algoritmo rimane inefficiente. Ed è questo l'obiettivo di queste due lezioni, capire l'efficienza degli algoritmi. Ci interessa il tempo, quindi, come risorsa di primo interesse. qui dobbiamo parlare di tempo, dobbiamo parlare di tempo di calcolo. Ora però, è vero, sì, io vi ho mostrato all'inizio di questa lezione il tempo misurato sul mio calcolatore, ok? Ma, se voi l'aveste fatto, quell'esempio sul vostro calcolatore avreste ottenuto dei numeri leggermente diversi. noi non possiamo, anzi, se io quell'esempio l'avessi fatto girare su un computer di dieci anni fa, avrei ottenuto dei numeri anche molto diversi, che ne so, magari, anziché impiegare due decimi di secondo, il sort dell'STL avrebbe impiegato cinque secondi, dieci anni fa. Quindi, una differenza di un ordine di grandezza per dieci. Quindi, non possiamo noi prendere il tempo misurato e dire, ok, questa è la complessità dell'algoritmo, perché, allora, dove l'hai misurato? Il computer di che anno è? Quanti cor c'ha? È multitreaded? Hai fatto un algoritmo in parallelo, per caso, come l'altra volta? È stato qualche trucco? Mica stavi giocando mentre stavi facendo girare l'algoritmo? È perché, se stavi giocando un videogioco, la CPU era usata per altre cose. Non possiamo noi fidarci del tempo di esecuzione. Sì, ve l'ho dimostrato all'inizio, ma era solo per stuzzicarvi. Non è quello il metodo con cui noi possiamo dire appartiene a questo o a quella classe. Inoltre, il tempo dipende dai dati d'ingresso. Ci sono dati fortunati e sfortunati. Anzi, andiamo nel bub sort per capire di cosa sto parlando. Ve lo ricordate il bub sort? Il bub sort è un algoritmo di ordinamento stupido, tra virgolette, che fa immaginando l'array in verticale, quindi come una pila, ecco perché bubble come delle bolle che risalgono, va a controllare se ogni coppia è ordinata. Quindi, coppia per coppia, se l'elemento che sta sotto è minore dell'elemento che sta sopra. Se questo non avviene, effettua uno scambio e siccome questa cosa viene controllata su tutti gli elementi dell'array, un elemento che per esempio, anziché stare sotto, dovrebbe stare sopra, viene scambiato, 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 è come una bolla risale, risale fino alla cima. Questo non viene fatto una volta, ma viene fatto n volte perché potrebbe essere che l'array è ordinato in senso inverso e quindi l'ultimo deve diventare il primo, il penultimo deve diventare il secondo, il terzo, il terzo, eccetera, eccetera. Quindi, in quel caso, bisogna far risalire tante, tante, tante bolle. però il Babsort ha una caratteristica che lo rende paradossalmente superiore ad altri algoritmi di ordinamento ben più blasonati. Qual è la caratteristica del Babsort? Non lo so se l'avete fatto così, però è così che andrebbe fatto. Cioè, nella prima fase in cui io vado a controllare se ci sono scambi da effettuare, se l'array è già ordinato, supponiamo che è già ordinato, io vado a controllare la prima coppia se è da scambiare e dico no, non devo scambiare. Controllo la seconda coppia no, non devo scambiare e così via perché è ordinato. Se alla fine di questa iterazione di controlli io non ho effettuato alcuno scambio, l'algoritmo se è realizzato con il flag che memorizza l'ultimo scambio, se il flag dice non c'è stato alcuno scambio, allora l'algoritmo termina prematuramente. Che significa termina prematuramente? Che in questo caso, in questo caso, sono stato fortunato, cioè i dati in ingresso erano già ordinati, l'algoritmo ha un modo per uscire prima, è un po' quello che mi ha considerato un vostro collega da lezione scorsa, non mi ricordo in merito a cosa, in merito alla ricerca binaria, non ha senso fare la ricerca se l'elemento non sta entro il primo ed l'ultimo. Ecco, poi l'esempio di scorciatoia, cioè se tu sei in un caso fortunato, esci prima, quello che è successo in questo caso. Tutto questo per dirvi che se io misuro il tempo di esecuzione, magari sono in uno di quei casi fortunati e quindi dipende dai dati che ho in quel momento e allora che faccio? Dico che sono stato fortunato quindi non mi accolgo che sono stato fortunato e dico che quello è il tempo di esecuzione? No. Quindi noi dobbiamo essere indipendenti dai dati di ingresso, indipendenti dalla potenza del calcolatore, dall'eventuale parallelizzazione o anche l'implementazione, magari l'implementazione l'ha fatta, non me ne volete, uno studente, non so, manco laureato, non lo so, l'ha fatto un ragazzo pagato, stanco, mal pagato. Oppure il linguaggio, beh, linguaggi interpretati, linguaggi compilati. Magari anziché essere scritto in C++, l'algoritmo è scritto in, non so, in Python o in Java, la qualità della traduzione, magari state usate usando un compilatore molto vecchio, oppure un compilatore che non ha i flag di ottimizzazione abilitati, l'ottimizzazione rende il codice anche 100 volte più veloce, e ovviamente la velocità del laboratore. Quindi noi vogliamo essere indipendenti da tutto questo, ok? Per essere indipendenti da tutto questo dobbiamo fare un'astrazione, è l'unica cosa che possiamo fare. quindi un'astrazione che tenga conto del metodo dell'algoritmo e non di tutti i contesti in cui l'algoritmo viene eseguito. Quindi a noi non interessa il contesto, a noi interessa l'algoritmo, quindi i nostri occhi devono essere solamente sull'algoritmo, sul codice. Questa misura che andremo a tirare fuori sarà nota come complessità temporale, quindi una misura che non tiene conto di tutto questo, ma soltanto delle istruzioni che noi abbiamo scritto nel nostro algoritmo. Quindi siamo pronti per dare una definizione che ancora non è la definizione finale, però è una definizione che appunto ignora tutte queste cose che abbiamo detto non essere di nostro interesse. Allora diciamo che la complessità temporale degli algoritmi in funzione dei dati in funzione dei dati non significa che è vero che ho detto che dobbiamo ignorare, ma ignorare intendo ignorare il particolare dato, cioè fortunato o non fortunato, ma comunque la dimensione dei dati ci interessa. Non possiamo prescindere, come vi ho detto prima, se devi ordinare un array di 10 non è la stessa cosa di ordinare un array di 100.000 elementi. Quindi la nostra complessità deve essere sicuramente funzione della dimensione dei dati e non dai particolari dati e questa funzione tempo di calcolo la chiamiamo t e deve essere funzione quello che vogliamo deve ignorare tutto questo deve dipendere solo dall'algoritmo quindi deve dipendere dai passi di calcolo di quell'algoritmo cioè quell'algoritmo è fatto di istruzioni queste istruzioni in maniera un po' più estratta le chiamiamo passi di elaborazione per esempio un'assegnazione un passo un'operazione aritmetica è un passo di calcolo un accesso in ram con le quadre in c++ è un passo di calcolo un'espressione booleana if questo è un passo di calcolo quindi per noi ogni istruzione è un passo di calcolo allora definiamo la complessità temporale il tempo di calcolo perché è un tempo la complessità temporale che è una funzione che ancora non capiamo però come praticamente come calcolarla ma sappiamo che è proporzionale funzione del numero di passi di calcolo il numero di passi di calcolo però è funzione alla sua volta della dimensione dei dati perché più dati ci sono e più passi pensate a un ciclo pensate a bab sort più è lungo l'arri e più bisogna insomma iterare per ordinare in quel caso l'arri quindi siamo arrivati ad una formulazione ancora non esplicita però abbiamo messo ordine nelle nostre idee quindi la complessità temporale che indichiamo con t è funzione dei passi di calcolo che a loro volta sono funzione del numero di dati in ingresso questa è la nostra complessità temporale ora dobbiamo fare un po' di semplificazioni semplificazioni di che tipo innanzitutto dobbiamo capire su che tipo di macchina andiamo a eseguire i nostri algoritmi perché ragazzi perché per esempio ci sono i computer quantistici non vale quello che stiamo per dire cioè quello che stiamo per introdurre adesso non vale per i computer quantistici vale per i computer deterministici in particolare basati su architettura di von Neumann cioè un'architettura con macchine a registri la CPU la memoria le cose che stanno nei nostri computer se il computer è fatto in quella maniera allora per noi i passi di calcolo sono esattamente quello che vi dicevo segnazioni operazioni di base aritmetiche accesso eccetera eccetera anzi facciamo un'ulteriore semplificazione e questo ripeto lo facciamo perché siamo sul computer standard architettura di von Neumann ragazzi questa è una enorme semplificazione noi diciamo che ciascuno di questi passi di calcolo sì è vero se andiamo a livello hardware per fare uno ci vuole più tempo per una di queste operazioni rispetto ad un altro per esempio immagino che l'input e l'output siano sicuramente ci voglia più tempo perché convogono un device uno schermo una tastiera mentre che ne so magari un calcolo viene fatto nei registri della CPU e una somma tra due registri si fa veramente in un tempo incredibilmente basso l'assegnazione già è diversa perché l'assegnazione significa andare a prendere qualcosa in RAM quindi questa qualcosa deve viaggiare attraverso il bus di sistema andare nella CPU e insomma calcolare l'indirizzo dove fare questa assegnazione eccetera quindi non è vero nella pratica che ci vuole lo stesso tempo per tutte queste operazioni ma a noi non interessa perché a noi non interessa perché noi stiamo per introdurre delle classi di complessità dentro le quali le differenze sottili che ci sono tra uno e un altro algoritmo a noi non interessano un po' come abbiamo visto nell'esempio all'inizio di questa lezione c'erano quelli che impiegavano poco tempo e quelli che impiegavano tanto tempo a noi interessa questa distinzione non ci interessa sapere che il bubble sort ha impiegato 5 volte più del selection sort non ci interessa questo 5 volte in più a noi interessa 1000 volte in più a noi interessa quadratico rispetto a log lineare o lineare o logaritmico perché tra n quadro e logaritmo di n c'è una differenza enorme il logaritmo di un milione è 6 il quadrato di un milione è 1000 miliardi queste sono le differenze che a noi interessano non che per fare un'assegnazione ci voglia 3 volte il tempo rispetto ad un calcolo ok non ci interessano queste sottili differenze pertanto accettiamo questa enorme semplificazione cioè che ciascun passo di calcolo indipendentemente dai tipi di variabili anche questa è un'ultima semplificazione che in realtà non è vero i calcoli in virgola mobile in float ci vuole di più rispetto a quegli interi e in doppia precisione dopo ci vuole ancora di più però queste sono cose che a noi non interessano quindi ogni passo impiega 1 1 che significa 1? un secondo? no perché abbiamo detto che non ci interessa il tempo in secondi quindi per noi quell'1 è un'unità di misura quindi l'unità di misura della complessità computazionale non sono i secondi non sono i dati in ingresso ma sono i passi di calcolo un passo di calcolo è l'unità di misura quindi adesso la nostra t tempo di esecuzione tempo complessità temporale tempo di calcolo proporzionale al numero di passi siccome adesso ogni passo impiega 1 per noi adesso il tempo è uguale al numero di passi quindi ci serve a contare ci serve solamente contare i passi nel nostro algoritmo 10 passi complessità 10 100.000 passi complessità 100 100 10 non sarà così perché gli algoritmi sono sempre funzione dei dati di ingresso della dimensione dei dati di ingresso quindi il nostro numero di passi molto spesso sarà una funzione del numero di dati in ingresso siccome siamo ingegneri e ci piace semplificare linearizzare semplifichiamo ancora di più e diciamo che se abbiamo una condizione booleana composta per esempio if questo e quest'altro anche più complessa di così quindi if questo e quest'altro oppure quest'altro e quest'altro ancora composta da in questo caso quattro condizioni per noi questa quantità di passi di calcolo che sarebbe in realtà quattro dipende dalle end or comunque è una quantità numerabile limitabile superiormente con un k quindi a noi come vi ho detto prima delle costanti non ci interessa quindi che la tua if sia fatta di quattro confronti o di un confronto la differenza sarà di un fattore quattro ma noi questo fattore quattro non ci interessa sarà un fattore sei ma ragazzi ma che è che si mette a fare una if di un miliardo di condizioni nemmeno il compilatore ce la farebbe quindi ipotizziamo che le condizioni multiple sono ragionevolmente piccine non un miliardo sono una decina di condizioni tutto a più ok quindi per noi ha costo unitario quindi per noi anche la if con tante condizioni c'ha costo unitario è lo stesso identico discorso anche per le operazioni aritmetiche composte stai facendo 10 somme in una riga di codice non ci interessa 10 è comunque una costante che possiamo trascurare è vero nella realtà non è così nella realtà l'aritmetica intera non è uguale a floating point nella realtà il compilatore fa delle ottimizzazioni nella realtà l'architettura 32 64 bit conta mono multicore conta il file system oppure conta se file system a disco file system scusate il file system e del sistema operativo se il disco è allo stato solido oppure no ma noi non ce ne frega di tutto questo ok quindi per noi un'istruzione una riga di codice ragionandoci un pochettino vale 1 in generale facciamo degli esempi perché qualcosa potrebbe essere passata bene qualcos'altro potrebbe essere passato in maniera ambigua vediamo questo semplice codice oh ragazzi questo è veramente semplice assegno 0 a 2 variabili non lo so da dove sono state definite non mi interessa se sono interi o float non mi interessa sono due variabili inizializzate a 0 in una sola riga poi c'è un ciclo while i minore di n n ci sarà sempre n è il numero la dimensionalità dei dati di ingresso quindi finché i è minore di n incrementa i incrementa j in questa maniera moltiplicato per 3 insomma 42 non chiediamoci perché questo codice che significa è un codice che noi dobbiamo adesso valutare in termini di complessità ora quando adesso noi andiamo a scrivere la tdn cioè il tempo di calcolo abbiamo detto che il tempo di calcolo è uguale al numero di passi di calcolo e abbiamo detto che per noi ogni passo vale 1 quindi secondo quello che io vi ho detto se ho detto prima che per noi una condizione composta booleana o aritmetica ma in realtà vale anche per le assegnazioni per noi vale comunque 1 quindi come mai qua ho scritto due passi di calcolo all'esterno del ciclo perché quello che vi voglio dimostrare è che se io prendo 10 persone anche all'esame può succedere una cosa del genere ma non all'esame nostro perché io non mi faccio l'esame chiedendovi la complessità tdn con i giusti numeri però al mio esame era chiesto che si calcolasse la tdn di algoritmi dati il risultato di 10 studenti era diverso dicevo 10 studenti 10 risultati diversi perché perché le semplificazioni che stiamo adottando sono talmente grossolane che alla fine uno magari accorpa delle cose oppure decide di non accorparle per esempio per noi questa vale 1 o vale 2 per qualcuno varrà 2 per qualcuno varrà 1 è vero non ci dobbiamo scandalizzare di questa ambiguità perché quello che ci accorgeremo è che noi di questa tdn a noi non interessa il fatto che qua ci sia un 3 e che qua ci sia un 3 qua potrebbe esserci anche un 5 o che ne so qua 1 anziché contare 2 contava 1 quindi qua ci sarebbe stato un 2 perché tolgo 1 dalla somma totale a noi non interessano queste costanti questi numeri precisi precisi ci serve solo per darvi un esempio di come calcolare la composità computazionale quindi ad esempio queste sono due assegnazioni quindi due passi di calcolo all'esterno del ciclo metto il 2 qui e inizio a considerare il resto del codice while i minore di n beh while i minore di n è un ciclo che testa una condizione booleana quante volte la testa e beh i parte da 0 n è quello che è la testa n più 1 volte perché n più 1 volte n volte la testa e il testa successo e si entra nel ciclo ma c'è la n più unesima volta in cui il test fallisce e si esce dal ciclo e quindi n più 1 confronti dentro questa condizione di ciclo quindi 2 più n più 1 poi c'è il corpo del ciclo il corpo del ciclo è 1 e anche questo per noi per esempio potrebbe essere 1 ma qualcuno direbbe no questo non è 1 questo è moltiplicazione somma e assegnazioni questo vale 3 e vabbè per te vale 3 per me vale 1 ma la verità è che non cambia il risultato finale in termini di ordine di grandezza lo vedremo quando introdurremo gli ordini di grandezza quindi il corpo del ciclo vale 1 più 1 2 ma quante volte viene eseguito questo ciclo? viene eseguito n volte l'abbiamo detto prima quindi 2 per n allora 2 più n più 1 più 2 n 3 n più 3 ma ripeto se questa stessa cosa anche a valle di questa lezione ve lo rifate voi a casa non otterrete tutti quanti 3 n più 3 e va benissimo così non ci interessano a noi queste costanti ci interessa il fatto che questo sia dell'ordine di n quindi vi anticipo che questa complessità è una complessità lineare lineare cioè che appare l'ordine di grandezza il termine di grandezza più elevata è n potrebbe essere 5 n potrebbe essere anche 100 n sarebbe lo stesso lineare diciamo che questo algoritmo ha una complessità lineare perché il termine di ordine più elevato è un termine lineare n se fosse stato n quadro sarebbe stato quadratico ok quanto tempo abbiamo? 5 minuti bene ci siamo quindi facciamo un esempio più complesso questo era un esempio in cui avevamo un ciclo un ciclo semplice e se abbiamo dei cicli annidati come facciamo? stesso discorso partiamo dall'esterno abbiamo un ciclo esterno ora i for i for dentro i for mentre i while ha una semplice condizione i for dentro ha uno due e tre e tra l'altro queste tre cose non vengono eseguite a ogni ciclo la prima se vi ricordate da fondamenti è un'assegnazione che si fa all'inizio del ciclo ecco perché un una si fa una volta e basta un'assegnazione int i uguale 0 questa cosa qui poi ci sono i confronti un po' come while questi confronti se i parte da 0 ed n è il numero di dati sono n più 1 come prima e poi c'è l'incremento gli incrementi si fanno tante volte quante sono le interazioni del ciclo è un ciclo di n interazioni n incrementi più più e cominciamo a metterci da parte questo 1 più n più 1 più n e si sono messi da parte la prima riga di codice ecco perché non è corretto dire una riga di codice 1 passo di calcolo dipende che riga di codice è un ciclo quella la dovete spacchettare non è una riga è una riga nel testo ma nella realtà quello non è un passo di calcolo ma un'assegnazione n più 1 confronti n incrementi è 1 più n più 1 più n passiamo al ciclo interno e badate bene che siccome questo è un ciclo interno tutto ciò che diremmo di questo ciclo interno va moltiplicato per il numero di iterazioni esterne quindi 1 più n più 1 più n più n per quello che stiamo per dire qua dentro cosa stiamo per dire qua dentro ebbè la stessa roba quindi del ciclo interno una segnazione iniziale n più 1 confronti n incrementi a questo punto andiamo dentro al ciclo quindi 1 più n 1 più n più 1 più n più quello che c'è dentro al ciclo e quello che c'è dentro al ciclo è un confronto se ha successo una segnazione con i due se non ha successo quindi abbiamo fatto il confronto l'abbiamo fatto un'altra segnazione con i due quindi il costo del ciclo è 2 per il numero di iterazioni n quindi un confronto una segnazione per il numero di iterazioni quindi 2n beh adesso mettiamo tutto insieme 1 più n più 1 più n ed è il ciclo esterno solamente l'intestazione n il ciclo interno per 1 più n più 1 più n che è l'intestazione del ciclo interno più 2n che è il contenuto del ciclo interno svolgendo questa aritmetica semplice si ottiene 4n quadro più 4n più 2 di nuovo a noi cosa interessa di questa formula che abbiamo ottenuto magari qualcuno avendo ragionato in maniera diversa rispetto a me avrebbe ottenuto delle costanti diverse ma comunque avrebbe ottenuto un n quadro qui davanti quindi per noi questo algoritmo lo diremo quando affronteremo la prossima volta introdurremo la notazione d'ordine la o grande la notazione osintotica diremo che questo algoritmo ha una complessità quadratica che è ben diverso da lineare che significa ragazzi che se noi diamo un miliardo di elementi al nostro algoritmo quello di prima il primo il while il minore di n che ha una tdn 3n 3n più 3 non mi ricordo un penne e poi se diamo un miliardo di elementi a questo beh ragazzi fate voi calcoli la differenza di nuovo un miliardo al quadrato rispetto a un miliardo sì qua è tre volte un miliardo qua è quattro volte un miliardo al quadrato quindi non è tanto il quattro o il tre che ci cambia la vita ma è il quadrato e nemmeno è questo un miliardo qui se voi fate un miliardo al quadrato quanto è un miliardo al quadrato ragazzi è 10 alla diciottesima ma non so come si chiama in italiano un numero del genere vabbè un miliardo di miliardi ovviamente ma secondo voi ha un miliardo di miliardi se gli togliete un miliardo o quattro miliardi che cosa cambia? non cambia niente ragazzi se ci metteva secoli e ci togliete un miliardo perché stiamo approssimando non ci interessa avete sbagliato non avete incluso il termine di ordine inferiore non avete sbagliato perché anziché impiegare 10 secoli impiegherà 10 secoli e un'ora in più cioè questa è la differenza di ordine di grandezza quindi non ci interessano sono i termini di ordine di grandezza inferiore abbiamo esaurito il tempo quindi terminiamo qui la prossima volta introdurremo andremo avanti domani parlando di queste cose l'obiettivo sarà di introdurre la notazione che ci consente di assegnare ad un algoritmo la sua classe di complessità quadratica lineare log lineare eccetera termino la lezione qui e rimango disponibile per domanda